Facebook è ormai parte piena delle nostre giornate e la nostra finestra sul mondo e della finestra attraverso cui il mondo ci guarda. Parliamo quindi di Facebook e parliamo dei numeri di Facebook in Italia, in Europa e nel mondo e ne parliamo con Luca Colombo, amministratore delegato di Facebook Italia. In generale quello che stiamo vedendo è una costante crescita e proprio in questi giorni abbiamo attraversato una tappa importante per la nostra azienda che è il raggiungimento di un miliardo di utenti nel mondo. Era un obiettivo già fissato da tempo, raggiunto nelle ultime settimane e che rappresenta un po' quello che è il fenomeno che si sta sviluppando un po' in tutto il mondo ma altrettanto che vede ancora diverse nazioni in crescita. L'Italia ha già raggiunto un buon livello di penetrazione, abbiamo 22 milioni di utenti che utilizzano Facebook, ogni mese e di questo il dato interessante è ricordare sempre i 14 milioni nel giorno perché non è soltanto quante persone raggiungi ma quanto lo utilizzano. L'altro dato che altrettanto rappresenta un po' un momento di svolta è il dato mobile. Nel mondo abbiamo oramai 600 milioni di persone che utilizzano Facebook da dispositivi mobili una volta al mese e in Italia siamo con questo numero, con questo parametro a 10 milioni. Quindi stiamo vedendo dei numeri costantemente in crescita, il mondo mobile che sta prendendo piede, ci sono ancora nazioni che stanno crescendo parecchie, stanno dando una spinta, l'Italia sta crescendo e ha già raggiunto dei numeri certamente importanti. Facebook è fatto di persone e la prima domanda che mi viene in mente è ci sono differenze tra uomini e donne, tra giovani e anziani, tra persone del nord e persone del sud. Ma ricordiamo innanzitutto che tendenzialmente si pensa a Facebook come le multinazionali, come qualcosa che arriva dagli Stati Uniti, quindi vedono il centro proprio dall'altra parte dell'oceano. In realtà l'81% delle persone che oggi è su Facebook è fuori dagli Stati Uniti, quindi oramai buona parte della popolazione non è US centrica ma è proprio distribuita in tutto il globo. La differenza oggi non la vediamo tra uomo-donna, tra giovani e anziani, è proprio una questione di predisposizione delle persone, delle fasce demografiche all'utilizzo più intenso o meno intenso. Quello che fa la differenza tra una nazione e l'altra è quello che è libero di penetrazione, quindi sono alcune nazioni in cui non siamo ancora entrati in maniera importante e in questo c'è un tipo di utilizzo, quelli in cui invece siamo presenti con una penetrazione sulla popolazione piuttosto solida, più o meno le percentuali si replicano in maniera uguale. Quando pensiamo a Facebook pensiamo a nuovi amici, nuovi contatti, condivisione di foto e ci sfugge a volte un elemento che sta prendendo sempre più corpo. Quanto Facebook contribuisca al rilancio dell'economia? Ma questo è un aspetto importante che è stato evidenziato peraltro da una ricerca di Deloitte proprio quest'anno all'inizio di gennaio perché ha cercato di dare una dimensione di quello che è il fenomeno Facebook a livello di economia, vuoi europea e vuoi anche italiana. Facebook vive di pubblicità attraverso una sua forza vendita, ma altrettanto attraverso tutta una serie di partner. Bene, come l'ecosistema dei partner, come tutte le attività che vengono realizzate dai consumatori su Facebook, attraverso le telco, attraverso le applicazioni impattano l'economia? Bene, quello che ha sostanzialmente dichiarato a rilevatore Deloitte è che in Italia questo valore complessivo equivale a circa 2,5 miliardi, che in Europa il valore corrispondente sui 27 nazioni è di circa 15 miliardi. Questo valore è distribuito in diverse aree, dalla parte telco se vogliamo, alla parte di applicazione, nella parte più di comunicazione e tutto questo equivale a circa una generazione di circa 34 mila posti di lavoro in Italia, 230 mila in Europa. Quindi ha un impatto soprattutto per la presenza di un ecosistema di partner che vivono attraverso Facebook. La presenza diretta è una piccola parte di questo contributo all'economia. Abbiamo detto che Facebook è fatto da persone, ma ci sono ora... c'è il mondo delle professioni e c'è il mondo delle imprese che sta entrando vigorosamente nel mondo di Facebook. La domanda che vorrei porle è cosa offrite voi alle imprese e cosa le imprese chiedono a Facebook? Beh, innanzitutto quando hai 14 milioni di persone ogni giorno è un'opportunità per comunicare con un target piuttosto allargato. Quindi alle aziende oggi viene data l'opportunità di entrare in contatto con potenziali consumatori, clienti e dialogare con loro. Quindi questo è in primis quello che noi offriamo al consumatore e indirettamente diciamo un terreno fertile per le aziende per a loro volta comunicare con i loro potenziali clienti. Quindi quello che viene fatto sostanzialmente viene messo a disposizione dalle aziende tutta una serie di strumenti che permettono loro di fare attività di comunicazione e marketing utili a generare business per le proprie aziende. Ancora una volta è chiaro che con questo tipo di audience puoi andare a colpire utenti diciamo molto ampi, una fascia di utenza molto ampia come pure andare molto in profondità sapendo che puoi segmentare, puoi targettizzare la tua comunicazione in maniera molto profonda. Abbiamo parlato dell'ingresso del mondo delle professioni e del mondo del business le imprese cercano modi nuovi per promuovere il loro marchio e anche modi nuovi per sviluppare relazioni nuove con la propria clientela. Può farci qualche esempio concreto di aziende che attraverso Facebook in Italia hanno costruito questi nuovi percorsi? Beh allora innanzitutto come dicevo prima lavoriamo con diverse aziende, alcuni dei settori con i quali lavoriamo maggiormente sono quelli che vanno su fasce di età, su masse di utenti molto ampie quindi largo consumo tipicamente che peraltro è uno dei primi settori merceologici in termini di investimenti pubblicitari. Quello che è un esempio che mi piace citare recentemente è quello di Alitalia perché già da tempo innanzitutto ha utilizzato Facebook per entrare in relazioni con i propri utenti e consumatori. Alitalia fa customer service quindi risponde a problematiche direttamente sulla pagina di Facebook, problematiche dei propri clienti, lo fa in maniera semplice e trasparente con delle persone dedicate quindi hanno proprio studiato un sistema attraverso Facebook che permette di essere vicini ai loro consumatori. Hanno costruito nel frattempo quindi anche una fan base di oltre 800.000 persone che sono diventate loro fan e dall'altra parte stanno cominciando anche a vedere come questo tipo di sforzi in termini di dialogo generano poi anche risultati in termini di vendite. Quali le novità previste per il 2013 per Facebook e per l'Italia di Facebook? Ma in generale Facebook ogni giorno cambia, introduce qualche cosa di nuovo, il ritmo di innovazione deve essere elevato altrimenti nel nostro mondo si rischia di rimanere un po' indietro quindi ci sono diversi prodotti che arriveranno ma non da qua un anno ma da qua alla fine dell'anno quindi in in generale vuoi per le aziende come prodotti advertising per dar loro sempre più strumenti a disposizione per raggiungere gli utenti, vuoi per gli utenti perché possono avere un'esperienza sempre più ricca ci saranno sempre più novità che vedremo di volta in volta nelle prossime settimane ho citato prima le Facebook offer per quanto riguarda le aziende la possibilità di raggiungere i propri clienti attraverso Facebook per chi vuole Grazie a tutti